Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione delle due monete viola per la settimana 5 della stagione 4 di Fortnite. La prima moneta si trova qui, nel boschetto. Ora, nel video non la vedrete, ma dalle 3 di oggi pomeriggio la troverete qui. Questa è la prima moneta, quindi qui, nel boschetto, qui vicino il dominio Doom. Non potete sbagliarvi. Prendete come punto di riferimento questa casetta sulla collinetta. La moneta XP Viola si trova praticamente all'interno di questo boschetto. Ripeto, adesso nel video non c'è, ma dalle 3 di oggi pomeriggio la troverete. È qui praticamente. Adesso atterro e vi mostro la posizione esatta, anche se la vedete già da voi da oggi. È qui dove sono io. Quindi, in questo boschetto qua. Passiamo alla seconda e ultima moneta viola. La seconda e ultima moneta viola si trova qui, vicino il cimitero delle sentinelle. Qui, vedete? Qui ci sono le sentinelle. Qui. La moneta si trova qui, praticamente, su questa collinetta adiacente al cimitero delle sentinelle. Quindi la trovate praticamente qua, dove sono io. Quindi, vicino le sentinelle. Non potete assolutamente sbagliarvi. La trovate qua, dove ci sono le sentinelle. . .